e iniziamo con il monologo iniziamo con il monologo e allora io voglio iniziare da qui voglio iniziare da qui questa mattina è questa mattina questa mattina mi mandano un po di messaggi dei murigni che io non chiamavo così ma ora gli chiamo proprio che sono quei tifosi da social non ripeto ma già lo dicevo no stadio già già sta con daniele già sta con la roma è differente ma i murigni da social invece rimangono pidocchiosi come sono e mi mandano un po di messaggi che scrivevano delle chat è inutile quel primo tempo se il secondo non metti il pullman la roma prende due gol uguali pressando alti a vuoto specifichiamo appena le altre recuperano la partita in meno la roma torna ad essere ottava come con mu quindi dove sta sto gran progresso con ddr se esci con feienord se esci col feienord purtroppo la stagione già è peggiore dell'anno scorso con mu anzi fallimentare ddr per me non arriva a pasqua ok poi fate recuperare la partita a quelle dietro e con danielino il decimo posto è vicino e ha spremuto tutti i titolari per il feienord una gestione disastrosa della rosa ddr buongiorno a tutti a roma inter c'è stata la conferma del mu pensiero se la roma non rimane concentrata con patta coordinata al 100 per cento per 80 90 minuti con le squadre più forti piama sveglia i fecchins bolliti del de cervello hanno cacciato l'unico che poteva vince l'unico trofeo disponibile meno male che qualcuno non è contento mi sembra di essere tornata indietro nel tempo gli antimurigni stanno a festeggiare che la roma ha giocato bene per un tempo come murigno e sti coglione per loro che avevamo preso la prima volta con quattro gol all'olimpico comunque a milano 0 1 giocando male con qualche difficoltà di formazione qui a roma quattro gol in casa la differenza dove sta zero punti all'andata zero punti ritorno questa è l'unica cosa che resta prepariamoci a vedere parte partite decenti e non vincere un cazzo questi sono i commenti di questi sono alcuni commenti che mi hanno mandato questa mattina ecco voi vi rendete conto che che bisogna combattere combatterò fino alla fine combatterò fino alla fine perché questi qui sono le persone che vogliono il male della roma non sono per me tifosi della roma questi vogliono il male della roma tifano in un professionista i professionisti ma non tifano la roma la verità è che noi abbiamo incontrato dopo neanche un mese di allenamenti con de rossi a squadra più forte del campionato una delle prime cinque in europa al completo con la formazione al completo in una settimana che aveva potuto allenare completamente anzi vi dico pure una cosa in confronto alla roma la roma ha giocato il lunedì e l'inter il sabato proprio una settimana perfetta per l'inter la roma il primo tempo fa due gol a quell'inter facendo un calcio a tratti veramente emozionante dove sembrava la roma del primo spalletti e il primo gol l'ho pure rivisto ragazzi secondo me non lo so secondo me il fuorigioco oggi non scherzavo sul controcalcio perché se voi andate a vedere acerbi colpisce di testa e mancini corre all'indietro per andare a marcare turam turam è in netto fuorigioco e mancini per andare a marcare turam comunque si trova davanti a lui patriso che non vede il pallone secondo me quella è fuorigioco però vabbè andiamo oltre ma non tanta roma perdeva uguale non era quello la il secondo tempo il secondo tempo pronti e via l'inter ha una forza disarmante ti butta lì la roma anche e con un campo pesante con giocatori come dibala pellegrini e angeligno faceva comunque fatica nel ripartire è vero che secondo me derossi poteva fa qualcosa di più sui gambi e prima sui gambi però dobbiamo dobbiamo dire che l'inter è forte e che quando dovrà rimontare ha messo tutta la sua forza la roma che ha un portiere che non è più un portiere e se fama portiere invertiti non so come finisce la partita se lui patriso va all'inter e sommare va alla roma ma tolto questo la roma pecca di qualche ingenuità una cristante che si mette davanti al pallone sulla punizione fa ripartire così l'inter tranquilla croce e mezzo e mancini e mancini che va in ritardo in copertura su turam la secondo me ci sta uno sbaglio dei mancini comunque non ti puoi anticipare così il difensore e più che quello dei cristanti dall'altra parte se prende un gol uno strapotere fisico di turam quella forse è l'unico che posso accollare a daniele derossi nel senso che io avrei fatto uscire angelinio io già non l'avrei fatto giocare dall'inizio contro l'inter lo avevo detto nelle mie live però all'inizio secondo tempo dopo il 2 2 l'avrei fatto uscire poi soprattutto con la pioggia che continuava poi comunque la roma su 3 a 2 ha avuto due occasioni clamorose che si mangia lukaku più altri tiri in porta la roma poteva pareggiare la partita se la roma pareggiava la partita nessuno poteva dire niente e fa i cambi fa entrare bove che da qui e dagli ale vi racconta sempre sempre da questi sono io prendo gli insulti che per me bove è un buon giocatore ma se devi fare a roma da alti livelli forti per vincere lo scueta la champions league bove non può giocare titolare nella roma e poi vedrete se me sbaglio tanto è difficile che me sbaglio ragazzi bove perde in pallone e proprio entra male in una partita dove soffre tanto la qualità la fisicità dell'inter perde in pallone a ma la novantaduesimo tutti in avanti prende il contropiede e finisce 4 a 2 ma la partita è stata sempre tenuta in equilibrio e a galla è una partita che sicuramente ha mostrato le che la roma ancora deve lavorare e ma era evidente la roma non riesce a tenere ancora tutti i 90 minuti con la stessa intensità la stessa forza la stessa corsa per quale motivo perché comunque la roma non si allenava prima voi ci dovete stare a murigni perché la verità facevano quattro cazzate murigno che parlava al telefono dopo 50 minuti in ora se ne andava questa questa è la realtà delle cose che succedeva a tricoria invece adesso a roma si sta senza preparazione noi abbiamo fatto il ritiro mentre l'artica c'è nei due e doppie sedute in montagna noi la mattina facevamo un allenamentino il pomeriggio andavamo sullo yacht la barca faccio i surfi queste cose qua non le ha fatte de rosci e le ha fatte l'altro staff tecnico un murigno a capo adesso che cosa succede che che c'è un lavoro da fare e lo sapevamo però se andiamo a vedere proprio la partita la perdi per per comunque errori dei singoli da una parte lukaku da una parte turam da una parte sommer da una parte lui padresio e mi pare e mi pare evidente questa cosa però che la roma deve ancora arrivare arrivare a livello dell'inter è normale e ma ragazzi dall'altra parte c'è sta un mercato due mercati tre mercati quattro mercati cinque mercati fatti da un allenatore c'è due anni e mezzo di allenamenti fatti da un allenatore qui ci sono due acquisti fatti da un allenatore perché auserne poi è venuto con murigno era un acquisto da murigno due acquisti di un allenatore e neanche neanche un mese di tempo perciò non è che ci vuole la bacchetta magica ok io non so contento che la roma ha perso con l'inter l'ho detto e mi fa piacere che l'ha detto anche de rosci perché noi che siamo non siamo come murigno perché voi che fate battute no perché volanti murigni siete contenti no no siete contenti voi murigni che eravate contenti voi e facevate capriole quando a roma vinceva l'ultimo coricorino moderno contro la cremonese squadra di serie b e quando la roma ha perso a napoli però ha giocato bene ma neanche come ha giocato a roma con l'inter ha giocato bene a roma a napoli e si era fatta la foto la squadra un'umiliazione incredibile neanche l'inter napoli cioè tu vai a napoli perdi col napoli e ti fai la foto cioè io io credo che questa cosa qua un'umiliazione così poche volte l'ho provata essere tifoso da roma una delle altre volte è stata 3 a 0 dopo l'inter in casa al primo anno perché tutti dicono no ma murigno ha perso 1 a 0 con inzaghi all'andata e tu credo non te sei mosso davanti l'area di rigore hai perso sì 1 a 0 tutti davanti l'area di rigore e che è perso 1 a 0 ma non si ricordano questi che il primo anno dopo 5 6 mesi di murigno dopo comunque un ritiro la roma perde 3 a 0 al primo tempo con uno scarto di 3 gol al primo tempo 3 a 0 contro l'inter e il secondo tempo l'inter fattorello tutta la partita un'umiliazione incredibile come l'umiliazione quella di farsi il selfie al san paolo perché la roma aveva giocato bene e si sono fatti il selfie questi sono sozzoni sono impostori mi dovete dare una mano tutti quanti sui social ad emarginare queste persone che sono il male della roma la roma se continuerà a avere questa merda qui non andrà mai da nessuna parte fidatevi perché poi la gente si romperà il cazzo di calcio quella che di calcio vera vuole fare calcio vera si romperà il cazzo di sta piazza grazie a sti sozzoni che devo capire se sono della lazio o sono travestiti da romanisti o non so che cazzo è una setta organizzata come dicevo io vi ricordo che questi vi parlano di zeman zeman non esiste più nel calcio moderno adesso de rossi non fa quello che fa zeman de rossi fa un calcio fatto di funzioni di principi differenti che è un calcio che si avvicina a quello di spalletti a no si avvicina è simile a quello dei spalletti a quello dei guardiola a quello dei serbi e de sciabbi alonso e tutta sta compagnia qua gente che l'altro anno il manchester city è primo tutt'oggi in premier league viene da tre premier league consecutive vinte viene da un triplete fatto c'è stata dall'altra parte un bayern leverkusen che dopo una crescita dell'altro anno stanno sta dominando il mondo perché la squadra più forte di europa con i numeri il bayern leverkusen sciabbi alonso abbiamo visto l'altro anno il napoli stravincere lo scudetto con un record dei punti è qualcosa che per il napoli è incredibile stiamo vedendo un bologna 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 che gioca a calcio sta per lottare con la champions league solo per giocare a calcio con un allenatore l'altro anno venuto in corsa adesso abbiamo danielino de rocci e ci sarà un lavoro da fare questa è una squadra che quando sento dire no perché non corre per caratteristica come dice zazzaroni io dico ha anche ragione perché è anche vero per certi versi innanzitutto dobbiamo dire che la roma non corre anche perché non si allenava bene e due bisogna anche dire che la roma non corre e non c'è gioco delle caratteristiche perché è una squadra che ha costruito murigno spendendo 91 milioni il primo anno e cambiando 22 giocatori in rosa perciò anche qui a chi la vogliamo accollare quando ci parla no maida roberto maida bisogna dirlo perché lo dice lui in twitter lui dice no però a portieri invertiti de qua de là e poi vedete no anche murigno e maida roberto ti vorrei ricordare però che rui è rui e che murigno fa spendere quasi 15 milioni per portare un 32 anni a roma e questo è il portiere di giose murigno non è il portiere di daniele de rosci poi diciamo che per tutte le le squadre che hanno ambizione bisogna incominciare a giocare a calcio io ho visto a tratti una grande roma sabato manca ancora nei 90 minuti ma dobbiamo dire che tutte domeniche non è che la roma incontrerà all'inter ragazzi l'inter è una è una cosa è incredibile l'inter perso una partita in campionato una e pareggiata due cioè l'inter forse non ho tre credo tre pareggiate una persa forse non avete capito che l'inter su 69 punti ne ha fatti 60 ha preso la lazio la lazio ha avuto un bucio di culo perché non riesce a prendere imbarcate per bucio di culo la lazio doveva perdere 8 a 0 contro l'inter 8 a 0 perde 3 a 0 un caso senza tirare in porta la lazio con l'inter la roma la roma poteva benissimo pareggiare se l'ucaco era più preciso con un campo infame come infami sosti murigni da social adesso sappiamo ma lo sapevamo perché io ve lo dico prima che la roma non poteva mai più sbagliare non poteva mai più per secondo la testa dei sti scemi io vediamo proprio come siete scemi scemi la testa dei sti scemi la roma doveva fare 18 vittorie consecutive in campionato e secondo sti scemi la roma deve vincere l'europa league perché secondo loro murigno vinceva l'europa league sì perché tutti l'anni te capita il salisburgo la real società del bayern leverkusen e dell'altro anno e arrivi in finale il simiglia capito perché tu magari sei sicuro che stanno dopo il feienord non può incontrare il liverpool oppure il milan che già sicuro da champions league e se può giocare europa league a vincerà perché già nel campionato comunque l'europa league già la champions league l'ha già la centrata c'è il bayern leverkusen che è la squadra più forte in europa in questo momento e perciò loro erano convinti che come giocava murigno che non riusciva a fare un gol al derby vincevano l'europa league sti scemi sti stupidi perché questi hanno un cervello così loro credevano di vincere l'europa league quando tu non fai un gol al derby anche a lazio rimaneggiate tu vuoi in quarti dei finali di coppa italia voi pensate che la roma non voleva uscire i quarti dei finali di coppa italia con lo lazio e voleva uscire murigno se giocava la strada di casa perché l'aria era quella uscendo ai quarti finali coppa italia voi vi pensate che lui poteva fare un'altra magia che gli astri gli andavano un'altra volta a favore il bucio di culo e arrivavamo una botta del qua del là a fare le partite dove in casa facevi uno due gol e fuori casa ti mettevi dentro l'area dei rigori a prendere 23 ti riporta e ti pensi che ti andava sempre bene sta cosa questo è quello che pensate voi io dico una cosa oggi un altro su tic e toc e poi tic e toc ragazzi è veramente impestata da sti murigni mi scrive no però t'ha fatto vincere la coppa l'ananzitutto mi ha fatto dice la coppa la coppa come ha vinto a murigni hanno vinto i frecchi hanno vinto la squadra ha fatto affatto fa a finale rubate del qua del là ok ma che cazzo vuol dire questo mi parlate voi di mediocrità perché noi del qua del là di mediocrità come dice de rocci abbiamo perso porca miseria e io non so contento sì abbiamo giocato bene ma non so contento perché comunque abbiamo perso io sono un figlio di spalletti e quando perde duorte con real madrid e gli fa una caposcia così dice sì abbiamo fatto la caposcia così ma abbiamo perso un po' di messi contenti e noi dobbiamo essere contenti perché sta squadra che è arrivata in finale di confe di coppa di europa league ma ricordiamo ha vinto la conference league la conferenza league altranno vanno in finale fiorentina di italiano e west ham west ham ieri prende sei gol dal l'arsenal e sta nei bassi fondi della classifica della premier league questa è la conferenza league io perché lui fa poi quello che fa riesce a in europa league non dominando perché la roma non ha vinto una partita fuori casa noi dobbiamo accettare i settimi posti a 30 punti dal dal primo posto i settimi posti a 12 punti dal quarto posto e noi dobbiamo accettare di non vincere più un derby di non segnare un gol con un allenatore che prende 7 milioni e mezzo di euro solo per sta cosa qua poi ditemi chi è mediocre se io o se voi a me non conta un cazzo a me sta cosa qua io con murigno speravo di essere competitivo un campionato di vinci i derby di arrivare in champions league di vincere con le mie competitor perché a differenza di fonseca non è cambiata non era cambiata la stagione con le stagioni in campionato con murigno la differenza con fonseca è stata solo che in campionato murigno con le big perdeva de solito de misura e invece fonseca ha preso goleate e però fonseca con le piccole de solito vinceva con le goleate e de solito murigno vinceva de misura è cambiato poco perché poi la fonseca l'europa league non l'ha potuta giocare perché non esisteva ha giocato l'europa league in europa league fonseca arriva in semifinale cioè semifinale stiamo là semifinale finale arriva in semifinale e esce con il manchester united avendo la sfortuna di avere incontrato il manchester united e dopo un primo tempo dove la roma era anche in vantaggio la roma perde i pezzi non so se vi ricordate spinazzola mkhitaryan era già una squadra piena di infortuni e poi ci fu la debacle contro il manchester united perciò questo è non l'accettate sta cosa voi non accettate che avete parlato di cazzate alla gente comunicatori di hai descritto con le vostre manine su twitter tutte cazzate perché non capite un cazzo di calcio e volete fare arrivare questo messaggio voi volete il male della roma ormai è certificato per dorossi ci vuole un percorso che non è non può essere nelle tre partite cagliari verona salernitana e ne ha partita con l'inter il percorso deve essere più lungo dove poi vedremo se si perderanno uguali derby se si perderà uguale a napoli se si perderà uguale catalanta se si perderà uguale con la fiorentina se si perderà uguale col bologna se si perderanno quelle partite là allora ragazzi anche io dirò allora ragazzi veramente sì cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia per quanto riguarda europa league vedo di avvità vorrei passare col feienord perché perché comunque è ancora troppo presto per far una scelta anche perché se la roma fatte conto toppa narte due partite e poi pure il campionato diventa pari ancempio segretario nel campionato diventa quasi impossibile allora veramente poi è meglio che provi butti a monedina butti su europa league cioè europa league adesso giochiamo c'è la contro il feienordi cerchiamo di passare però non si può vedere partita dopo partita e ripeto ci vuole un percorso io mi sono dato questo percorso per giudicare il lavoro di daniele derossi che io già rinnoverei però giustamente non è che lo devi fare a scatola a scatola chiusa a me mi piace come parla mi piace delle cose che ho visto a roma e so capisco che c'è del lavoro da fare e so tramite notizie il lavoro che non veniva fatto a tricoria dove si perdeva tempo a far vedere i video come protestare con l'arbitro come come andrà a protestare con l'arbitro come buttarsi per terra come simulare come menà i giocatori avversari adesso se tentate far calcio per far calcio e ci vuole più tempo che fa queste cose queste cose qua è facile facilissimo non è che ci vuole chissà che fare calcio è più difficile e ci vuole più tempo perciò ragazzi secondo me bisogna solo avere un po di pazienza io ho detto i primi d'aprile per vedere se daniele derossi può può essere ancora l'allenatore della roma però vedo di la verità io andrei un po più oltre io direi il derby direi il derby e vediamo se il derby è lo stesso derby con murigno io non faccio sconti a nessuno nel senso voglio bene a de rossi però siccome voglio più bene a roma e siccome per me più importante a roma è meglio che arrivi ad un altro allenatore ma no murigno siamo sempre a parlare che se va via de rossi deve venire tiago motta deve venire gente de sto calibro qua non murigno murigno ragazzi speriamo di non vederlo mai più a roma perché poi alla fine ve lo accorgerete e ce ne stiamo accorgendo dei danni che ha fatto e che ha lasciato ha lasciato la squadra a 29 punti in 20 partite in 20 partite al nono posto in classifica dopo due anni e mezzo ma che deve fare più uno per farsi e caccià dopo tutte le dichiarazioni che faceva e tutto quanto aspettiamo adesso no vi siete resi ridicoli secondo me con questi messaggi colletto su oggi per quanto riguarda la partita dei sabato e dei rossi perché si è visto proprio che non vedevate l'ora che la roma perdeva per muovere quelle dita del merda e ma è evidente ma non è il momento bisogna aspettare diamo il tempo che il corso suo faccia il percorso faccia il corso suo scusate il gioco delle parole ma il percorso deve fare il corso suo e ripeto non so non erano le tre partite di prima non eravamo fenomeni ma non siamo pippe per la partita dei sabato contro l'inter che la roma prova a rigiocare da grande squadra di rimettere il petto fuori e di provare a vincere no di non perdere o prendere meno gol cioè perdere o pareggiamo o perdiamo dei meno gol no a roma ha provato a vince poi il calcio è fatto di episodi la roma per vincere con l'inter non deve sbagliare invece ha sbagliato e alla fine ha perso una partita perché ha sbagliato a livello cingolo ha sbagliato tanto e no tanto perché dicono a difesa del zema del qua del là scriteriato no ci sono stati delle errori individuali il primo secondo me ripeto un fuorigioco e calcio d'angolo il secondo gol il secondo gol non si sono messi davanti al pallone hanno fatto battere se sono trovati così sul terzo gol c'è stata un'altra bella azione di sviluppo l'inter poi prende il palo io non mi ricordo 200 mila azioni l'inter è stata anche molto concreta e cinica ma voi vi ricordate la parata di somma al primo tempo sui sciaragu il tiro dei pellegrini due gol mangiati da lucaco il tiro di baldanzi oltre i due gol ve li ricordate perciò ragazzi è una partita che la roma poteva pareggiare tranquillamente i migliori ci hanno detto così basta chi è da roma adesso deve solo non gufare aspettare che faccia il gufare che poi ragazzi allora io l'ultimi tempi veramente non potevo più vedere la roma e tante volte veramente pensavo dico mannaggia la miseria ma si perdemo ma non è meglio così lo levamo dal cazzo no ma lì stiamo a parlare di un lavoro un lavoro di due anni e mezzo dove la roma era disastrosa dove la roma faceva schifo come giocava dove c'erano posti in cassia e dici porca miseria dopo due anni e mezzo ma questo è un mese questo è un mese potete già sperà che perde le partite perché poi spetta lì per cambiare murigno e metterci uno che gioca a calcio giusto ma se tu adesso speri che perdi speri che perdi perché perché devono avviate rosci per rimettere murigno murigno non ritorna più perché c'è inutile che sperate che perde dei rosci per murigno murigno non ritorna più cioè io vado spera spera aspetta l'ultimo periodo che non lo sopportavo più che dico magari sarò ma vicino con tanto va roma ma se a roma perde lo sai che c'è porco due magari o mannano via perché non lo sopportavo più e lo dicevo qua perché andava via murigno arrivava qualcuno che giocava a calcio ma andava via murigno andava via murigno ma adesso non è che se babbiate rosci startranno ripiano murigno e allora voi che fate voi sperate che perde solo per il pensiero vostro per rimanere per 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 tener punto che dio vedi daiale galopera tre pisciani perché lo vedi erano i giocatori tutta sta cosa qua ripeto io invece no io invece no io invece all'ultimo perché a roma faceva proprio schifo pietà misericordia volevo un cambiamento perché volevo il calcio a roma volevo che si ritornava il calcio non c'era più calcio ecco qual è la cosa ok vabbè dai